Serviva un ponte in altri cantieri e lo abbiamo preso dal cantiere di Via Teatro, visto che è fermo. E' questa la spiegazione che la Sicula Costruzioni ha dato all'amministrazione comunale per lo smantellamento del ponteggio che circonde il cantiere del teatro incompiuto. Una motivazione che di certo fa pensare, visto che la stessa ditta era stata convocata per lunedì prossimo dall'amministrazione intenzionata a verificare ancora una volta, forse l'ultima, la possibilità di ricucire i rapporti con la Sicula Costruzioni per evitare, rescindendo il contratto, di bloccare per l'ennesima volta i lavori per chissà quanto tempo ancora. Abbiamo preso contatti tramite un nostro rappresentante legale con i vertici della Sicula Costruzioni, ha riferito l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe D'Urso. C'è stato detto che la ditta ha necessità di questo ponte per un altro cantiere e lo sta prendendo da qui, dato che il cantiere è fermo. Diamo credito a questa risposta anche se sembra eccessivamente tempestiva rispetto al nostro incontro, affermo restando che lunedì cercheremo di chiarire anche questo aspetto e se dovessimo trovare un accordo il ponte dovrà essere rimontato. Lunedì appureremo se tutte le figure interessate, come il coordinatore per la sicurezza e il direttore dei lavori, siano stati informati. La Sicula Costruzioni, prosegue D'Urso, ha il cantiere in sua custodia, ma noi siamo committenti e anche il Comune risponde per quel che riguarda la sicurezza.